Tragedia nell'alto garda, Federica Marcolla, medico di base a Cognola, è morta dopo essere precipitata da una parete rocciosa durante una gita sulla ferrata. Coronavirus, ancora numeri pesanti in Trentino, nelle ultime 24 ore ci sono 251 positivi e 5 morti. Salgono a 18 le persone che si trovano al momento in terapia intensiva. Con il numero di tamponi antigenici i contagi raddoppierebbero in Trentino? De Santa di Progetto Salute, da noi positivi circa il 20% dei testati. Paura nel primiero, un autista di un autobus ha un malore ed esce di strada schiantandosi contro diverse auto. Covid-19 e allarme nelle RSA, l'appello dei medici che chiedono di istituire una task force psicologica per aiutare i sanitari ad affrontare stress e disturbi post-traumatici. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAF Acli. CAF Acli ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199-199730